È possibile utilizzare un apposito modello da compilare e presentare all'URP del Comune Nisseno oppure all'Ufficio Tributi per chi non ha ancora ricevuto l'avviso dell'Atari 2022. Con lo stesso modello si può anche richiedere l'invio tramite indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata. Oltre al modello, appare sul sito del Comune Nisseno il tutorial per scaricare i relativi F24, un documento che ripropone tutti i passaggi con le schermate che ricordano lo stesso sito e che ripercorrono tutti gli step da seguire per accedere con lo speed ed individuare l'importo dovuto e come scaricare sia il documento con i riferimenti che l'F24 necessario per il pagamento della tassa sui rifiuti.